Bella a tutti ragazzi, io sono Zanzo, bentornati sul mio canale, oggi sono qua per dirvi ufficialmente che domani, sabato e domenica mi troverete a Roma al Romics 2016. È il mio primo Romics, voglio vedere appunto, sono curioso di vedere come sarà questa fiera, perché effettivamente al momento, come ho già detto anche nei precedenti vlog, la mia fiera che al momento mi ha colpito di più, quindi la mia preferita, è senza dubbio il Carrara Show, un po' per l'ambientazione, un po' per come siamo stati tra virgolette trattati, veramente trattati bene, quindi adesso voglio, sono curioso appunto di vedere come sarà strutturato il Romics e come soprattutto mi troverò e come voi vi troverete appunto in fiera. Ragazzi, allora, mi potrete trovare al padiglione 8, che è il padiglione appunto che è stato adibito per quanto riguarda i videogames e i youtuber, da quello che ho capito. Ho scoperto tra l'altro oggi, stamattina, perché me l'han fatto notare, che sono stato inserito nella lista degli youtuber ospiti della fiera sul sito del Romics, una cosa incredibile, non mi era mai successo di apparire direttamente sul sito della fiera. E ragazzi, mi potrete trovare o nei pressi o dentro nello stand di Tom's Hardware, oppure mi troverete all'interno dello stand dei maids, visto che molto gentilmente Step mi ha detto che posso tranquillamente stare dentro al loro stand durante tutto il periodo della fiera. Naturalmente ragazzi, durante i tre giorni di fiera cercherò di portarvi lo stesso di video che magari inizio a registrare adesso e dovrò poi pubblicare e rendere programmati appunto per coprire i tre giorni in cui sarò assente da casa. Durante i tre giorni della fiera cercherò di registrare più video possibili, cercherò di portare l'after movie, magari qualcosa di speciale come speciale appunto 10.000 iscritti, visto che quello effettivo non sono ancora riuscito a registrarlo purtroppo, ma non vedo l'ora di riuscire a portarvelo. E sicuramente porterò anche qualche altro video particolare in compagnia di altri youtuber, visto che sarò ospite a casa di Snitex, saremo tipo io, Snitex, Sbucci, Masarone, Chireni, Sete e Renas. Cercherò magari di portarvi qualcosa di carino anche in loro compagnia. Quindi ragazzi, ricapitolando, vi ricordo domani, sabato e domenica, quindi venerdì, sabato e domenica, mi troverete a Romics di Roma, Padiglione 8, Padiglione è quello adibito per i videogames e i youtuber. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di condividere questo video con tutti i vostri amici che saranno a Roma in modo da incontrarsi il più possibile tutti insieme per scambiare due parole, farci una foto, appunto far due chiacchiere. Io vi ricordo anche di iscrivervi al canale se ancora lo avete fatto, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Qui da Zanzetutto, un bel saluto. E bella!